ciao samuele ciao ho benvenuto a reggio emilia al campo volo sei pronto no a bellissimo ti hanno spiegato tutto no allora adesso ci spieghiamo tutto facciamo così allora andiamo dentro dal tuo pilota tandem ci imbraghiamo facciamo un'intervista di nuovo veloce e ti spieghiamo due robe va bene perfetto andiamo allora samuele ben ripenuto stiamo imbragando quindi vuol dire che manca pochissimo due minuti e siamo in aereo va bene certo allora ti è tutto chiaro quello che ti ho detto se hai dei dubbi dietro di te c'è il pilota puoi chiedergli qualunque cosa non c'è problema ricordati di guardarmi mi raccomando così facciamo un bel video e dalle belle foto perfetto dai lo so che sarà grande la tentazione ma non possiamo fare altrimenti di guardar giù di guardarne per adesso va bene allora ti lascio con matley che finisce di imbragarti e noi ci vediamo tra pochissimo in aereo ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ho un orecchio qui non me lo sento Oh, è normale anch'io Vai tranquillo Come stai? Tutto bene? Un minuto Tranquillo, tranquillo Com'è andata Samu? Benissimo Mi hai guardato Mi hai guardato? Sì, sì, stavo cercando di guardarmi un po' anche intorno Bravo, bravo, sei stato bravo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti